Salve a tutti e benvenuti in questo nuovo video di Lucky Law! Io sono Sabrina e oggi vi parlerò dei nuovi eventi di OPTC! Partirei subito parlando dell'evento che tutti aspettiamo con più ansia, ovvero il nostro amato Sugo Fest! Inizierà l'8 giugno alle 5 del mattino e durerà 48 ore come al solito! Fatti interessanti di questo Sugo Fest è stata annunciata una nuova classe di personaggi! Ovvero i Driven o gli Ambition o esattamente la stessa cosa, non ci interessa! Tra i personaggi più interessanti di questa classe troveremo sicuramente Vergo, Monet e Cesar! Ma la vera chicca di questo Sugo Fest è che non potremo pullare Argentoni! Io però non mi cullerei su questa cosa perché, credetemi, se siamo sempre stati sfigati nei Sugo Fest anche senza Argentoni potremmo benissimo essere sfigati perché le varie Miss Golden Week e simili sono sempre dietro l'angolo! Passando invece alla nuova serie di eventi settimanali, iniziamo subito parlando, vabbè, la solita gemma giornaliera su questo siamo, penso, abbastanza abituati, quindi è inutile ribadirlo! Evento interessante invece sono le nuove Extra Island delle tartarughe anziane che troveremo tre volte durante la settimana e più precisamente il 10 giugno per quanto riguarda le tartarughe blu, il 15 le rosse e una terza data infrasettimanale che non ci è stata ancora annunciata e quindi appena sapremo qualcosa mi interremo aggiornati! Per tutto il periodo invece che andrà dall'8 giugno al 21 giugno avremo doppia esperienza sia nelle varie normali isole della storia sia nell'Extra Island, non è sicuramente una notizia che ci cambierà la vita però potrà essere utile per i nuovi giocatori! Notizia invece che ci interessa veramente parecchio è il ritorno dell'Extra Island di Alvida e di Kuro perché ci interessa parecchio per maxare finalmente le special di Alvida e di Golden Pound! Nel 30 stamp di Alvida infatti ci sarà una maggiore possibilità di droppare i suoi manuali che sono appunto importantissimi mentre nel 15 stamp di Kuro ci sarà maggiore possibilità di droppare i manuali di Golden Pound quindi consiglio a tutti e anche a me stessa di farmare questa Extra Island! Chiudo questo video invece parlandovi della nuova Extra Island che inizierà invece l'8 giugno che è l'isola di Calgara anche questa molto interessante soprattutto per i manuali droppabili ad esempio quello di Mr. One, quello di Horse e di Capone Per oggi è tutto! Se Sabinella vi è piaciuta fare questo video mettete un like grosso come una casa altrimenti andrete a favorire la sua insicurezza e io perderò chi fa questi video al posto mio e ci sentiamo su Telegram, su Facebook pagina, Facebook gruppo tipo se avete il mio numero di cellulare potete mandarmi un messaggio non sono sicuro che vi risponderò anzi vi chiederò dove avete preso il mio numero dove avete preso il mio numero e voi mi risponderete all'autogrill e tutto avrà tutto più senso tuttissimo perché tutto tutto e noi ci vediamo a un prossimo video perché volevo entrare almeno per i saluti saluta ciao vi ricordo che possiamo e basta è quindi un cazzo ci sto pensando vita della nuova è nella nuova e con questo era tutto io vi saluto e vi ricordo lo ripeto